Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo primo episodio di Expeditions Viking. Direttamente abbiamo finito Expeditions Conquistador e il giorno dopo praticamente che l'ho finito, quando ho registrato, è uscito l'annuncio di Expeditions Rome che forse sarà già uscito quando vedrete questo episodio. Allora ho detto iniziamo Expeditions Viking che avevo già iniziato e avevo forse portato una live tanto tempo fa quando era uscito ma facciamoci un full gameplay, una run e godiamocelo insieme. Quindi partiamo con una nuova partita. Allora ho già toccato un po' le impostazioni per cui dovrebbe essere tutto già settato e dovrebbe andarci bene così. Non lo metterei Iron Man perché nello scorso giro il Save Scamming ci aveva salvato parecchi guai insomma per cui penso che non mi esimerò dal farlo. Verosimilmente questo primo episodio sarà di creazione del personaggio barra tutorial, sarà un episodio zero e inizieremo poi effettivamente con il gameplay vero e proprio dal primo episodio che sarà quello successivo a questo, come avevamo fatto un po' con Expeditions Conquistador. Allora, e il nome io userei sempre Mazzetessa anche se non è per niente un nome vichingo come non lo era non era un cognome da Conquistador e il cognome invece è qualcosa con una o tagliata di mezzo ci poteva stare. Megan Bjorn. Va bene. Perché no? Vediamo l'aspetto. Ah no, questo è solo l'avatar. Questo non è male. Questo non è male. Questo no. 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 No, no. Questo anche potrebbe starci. Dai andiamo con questo qua dai. Cos'è questo qua? Ah ok. Cambia il colore del vestitino. Ma di poco. Ah no. Ecco. il colore della pelle. Ok. Beh allora è nordico quindi lo metterei abbastanza tendente al chiaro così va bene. Colore degli occhi direi che azzurro, un verdino dai per non essere troppo banali ma non li vedo neanche sui occhi per cui... e non si può zoomare. Colore dei capelli. Sì. Questo mi sembra abbastanza pari con quello che abbiamo scelto nell'avatar. Allora. Questo mi sembra un pochettino troppo deboluccio per essere un vichingo. Medio o spesso? Spesso o medio? Mettiamolo medio. Allora la faccia. Shaven. Ah però c'è la barba comunque che si è rasato. Ok. Un po' di barbetta oppure un... No mettiamo ancora un po' di barbetta visto che sotto c'è la barbetta mi sembra più conforto. Ah però lui non ce l'ha nell'immagine. Allora facciamo Shaven. Dai. Allora guardate la... No Goathe forse quella... Long Goathe. Sì. Che è come l'immagine. Va bene. Poi i capelli dietro Ponytail. Beh i capelli potrebbero averceli anche diversi da quanto appare in immagine. Bene. Questa con la traccina a sinistra. Questi sono un po' ondulati. Undercut. No. Bruttissimo questo. No. Corti no. Niente capelli. Trotti di... Pull it back com'è? Ah ok. Tipo la Geralt. Geralt di Rivia. Ci può stare anche Pull it back effettivamente. Lose... Pull it headband. Ah lui ha una headband effettivamente. Dai mettiamo headband allora. Ci sta. questo. Ah il vestitino. Semplice. Pelle. Pelle dai. Ci sta questo. Sì. Voglio essere troppo elaborato ma neanche. Ok. Light sleeve. Braccia scoperte. Maniche lunghe pesanti. O i bracciali di cuoio. Ehm... Sì. Quelle pesanti. Fa freddo. Stivali. Come sandals. Sono dei sandali questi. Buh. Wrappings. Wrappings. Non mi sembra che ci stia male dai. Allora colore 1 cos'è? Ah ok quello. Influenza anche lo scudino dietro. Allora io farei un giallo blu. Così. colore 3. Google. Non sto parlando con te. Non so perché si attivi. Google nel mentre. Il terzo colore ha i pantaloncini ed è il colore dello stemma. Lo lascerei sempre blu. Sì. Blu è blu. Giallo è blu blu. O se no. Questo è proprio rosso. No. Giallo. Giallo blu. Tipo la Svezia. Mmm. Buono. Next. Allora qua è la roba che ci crea un po' più di problemi. Allora innanzitutto ho guardato una guida per suggerimenti su come... forse è meglio che abbasso un pochettino la camera perché sennò poi continuo ad uscire fuori dalla inquadratura. Una guida su come spendere le skill e gli stat point e uno dei consigli che dava era uno di non bruciarsi delle possibilità con gli stat point perché questi non incrementeranno durante la partita. e me lo aspettavo perché era così anche in Expeditions Conquistador. Le skill di investire tutto sull'arma con cui vogliamo iniziare. Per cui... adesso vediamo un attimo. Qui ce ne sono alcune che verranno bloccate o sbloccate in base a quello che abbiamo. Questo richiede... ha bisogno di un'altra nazionalità. Che quindi questo non possiamo sbloccarlo comunque. Questo invece ha bisogno... eh anche qua, di un'altra nazionalità. Eeeh va bene. Qua invece abbiamo... ha bisogno di Crafting altre. Ok, va bene, però non c'è bloccato d'altro. E questo richiede Crafting all'1, va bene. Qua invece c'è qualcuno che ci sta bloccato. Perception a 6. Ok. Bow rank 1. Che sarà qua. Si. Night Vision. Quest bow. Rank 1. Rebook. Sarà un'arma? Non ne ho idea, però qualcos'altro. Unarmed 1. Perception 6. Allora ho visto che ce ne sono due che sono bloccate da Perception 6. Perception 6 lo metterei quasi quasi. Sono quelle con ranged weapons. Eeeh... Per gli arcieri. A me non dispiacerebbe essere orientato sull'archery. Però... No, non lo so. Forse con lui dovrei fare un pochettino più il Tancone. Perchè magari come negli altri tu... No. Qua se combatti, combatti. Non è come in Conchistador non scendevi in campo. Non me lo ricordo più bene come era la partenza. Perchè? Mi ricordo solo che c'erano delle mini missioni nell'accampamento. Ma non ne so di più. Perchè... Eeeh... 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 One-handed melee. Medium damage, medium critical. Bow è due mani, ovvio. Molto danno, medio critico. Questa è un'ascia a due mani. Raggiunge ok a due distanze di due esagoni. Molto danno, critico medio. Coltello, invece, poco danno ma un altro critico. Scudo. Scudo. Sappiamo cos'è lo scudo, sling, cos'è? Ah, è una fionda. Ok. Danno medio ma molto alto il critico. La lancio. Non è male. Perchè raggiunge due esagoni. Danno medio, alto critico. La spada. Danno medio, basso critico. Ok. Eeeh... Basso danno e... Non uccide ma incapacita soltanto. Allora, a parte la Narmed che è l'unico che non mi interessa e lo scudo su cui non vorrei investire adesso, mi sembrano tutti abbastanza interessanti. Perception è quella dell'arco. Dipende poi anche da chi mi troverò come companion all'inizio. Non sarebbe male la... Lascia due mani ma dovrei farmelo poi bello tank perchè... Eeeh... Se no... Rischiamo che... Eeeh... Non sapendosi difendere con lo scudo ciavone. Ma anche la lancia due mani effettivamente. Eeeh... Pa 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 pa. Di buono è il fatto che può attaccare da due esagoni di distanza. Hmm... Però la spada è... Quasi quasi metterla in un'ascia base. Ascia e scudo. Che mi sembra abbastanza nordico, abbastanza vichingo. Ero deciso con l'arco ma alla fine finisco sempre per fare l'arco. E se no se me la rischiassi con l'ascia due mani... E che non voglio farlo... Essendo lui il capo del tutto vorrei dargli un pochettino più di potere sulle cose dei dialoghi. Tipo così. Per cui allora... Questa è... Eeeh... Governata da forza. Questa è da perception, forza, finesse, che ho aumentato. Endurance, perception, finesse, forza e forza. Sono quasi tutti su forza. Eeeh... Quelli standard. Tra il coltello che è finesse, la lancia che è finesse. Però il pugnalino non lo so. Non mi piace tanto andare sul critico. Cioè basarmi tutto sul critico. Danno medio, alto critico eh. Danno medio, alto critico eh. Danno medio, alto critico eh. Però a questo punto la lancia a due mani e sarebbe più che... ehm... Sono un po' perplesso. Se no facciamo che tiro ancora su di uno la forza. ma... Però così ho tutto pari. È davvero super... 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 Super noia. Persuasione. Eeeh... Rivela dettagli aggiuntivi. Eeeh... Attacchi e sorpresa. No, ok, questo lo togliamo. Per mettere 7 a forza Però è questo che mi mette gli hit point Andiamo con l'ascia una mano soltanto O togliamo sense per mettere endurance Frontline fighters Però se questo ha l'ascia a due mani non può essere un frontline Cioè lo sarà però può anche essere a due di distanza E gli metto davanti uno tank Dai proviamo usciamo dalla comfort zone Ascia a due mani E ci spendiamo Ah ok Solo due possiamo spendere E ce ne avanzano 35 Cos'è che possiamo prendere? Ah queste sono le passive Ehm no evade Defensor Defensor Tra l'ho già detto co-critico Restore le revivere ne ha di più Quella da più vita Armor piercing Ma invece le utility Ce n'era una molto buona Mi hanno detto Che è quella del dormire forte Ok Fai il dormire forte Gli altri vediamo un po' Perché dipende anche da chi mi troverò Guardian Diplomacy Craft Diplomacy potrebbe Essermi utile effettivamente Parti bonus Deterioration risk for infections Qualcosa che abbiamo Più movimento Ok Sessista Queste sono tutte Delle abilità Invece di Dual wielding Finta Interrompe Gratuito per tutti Rebuke Stunna Throwing things in people Cioè lanciare degli oggetti Queste invece ci sono Di supporto Dei bonus Questo cura Leadership A più 5 di resistenza E ok Da più movimento Tutti Leadership rank 3 E Leadership potrebbe essere Interessante Per lo che dovrebbe essere Il capo Insomma Del gruppetto Proteggi Scopri le trappole Don't withdraw Ma se lo facciamo che mi ritengo Li spenderemo poi Dai Tanto possiamo spendere Anche dopo Gli altri Done Si Eh infatti Possiamo spendere Più dopo Ok Ecco l'inizio di tutto Il capo Grazie a tutti. La nostra clan deve prevale. Interromperò la registrazione, devo vedere più che altro se posso salvare in quel momento e poi continueremo nel primo episodio. Aiutami Odino nel mio sforzo per curare i problemi di un tempo passato. C'è il banchetto, ok, e la sera dopo il funeral di tuo padre. Quando chiudi gli occhi ti immagini... Non è un rituale comune così a sud. Matumad e Astrid, che viene dalla terra dei Geeds, ha insistito. Tutti i thags dei clan vicini sono venuti alla festa in tuo onore. Suo padre non era uno di quelli più di successo, ma come guerriero ha comandato e ha avuto rispetto di molti. Gli ospiti si stanno entrando nella casa di tuo padre, anzi nella tua. Prima i thags e poi un gruppo modesto di guerrieri. Tua madre si avvicina per sussurarti un paio di parole di consiglio prima di prendere posto. Allora, alcuni di loro avranno beneficio per una transizione tranquilla. Potrebbe essere importante sapere dove sono disposti, insomma. Ok, quelli che hanno il nome cerchiato di oro hanno un dialogo. Quest, ok, God Markers on Quest. Ce ne sono altri invece che non sono della Quest, sono delle robe opzionali. Va bene, allora direi, facciamo Save Game. E poi facciamo... E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.